Il discorso di Weber denota una inadeguatezza di questo signore a fare il capogruppo di un gruppo politico importante come il PP nel Parlamento Europeo. Dico inadeguatezza perché lui ha un po' questa ossessione di Renzi, forse rimpiange i presidenti del Consiglio, non so, rimpiange Berlusconi, quindi ogni volta deve fare un attacco. Questo escludo che parli per conto della Merkel che è una donna troppo intelligente di un livello importante per avvalersi di un personaggio così mediocre e quindi penso che sia proprio il frutto di una sua miopia politica, non conoscenza dei problemi. Vediamo la questione più seria. Cosa sta chiedendo l'Italia oggi all'Europa e a che punto siamo? L'Italia sta chiedendo all'Europa di proseguire in una strada di cambiamento che è iniziata anche grazie a noi, perché la flessibilità che ha fatto Juncker è stata chiesta da un parese come l'Italia e da un gruppo politico come il nostro dei socialisti e democratici. Chiediamo che ci sia una politica di crescita, quindi più forza al piano Juncker, più capacità di promuovere il mercato interno ma avendo attenzione a tutto il tema sociale, alla direttiva sui lavoratori, sulla mobilità dei lavoratori, quindi di accompagnare questa politica economica con l'agenda sociale e poi chiediamo una gestione vera, seria, europea, concreta del tema delle migrazioni e dei profughi, che diciamo da tempo, che grazie all'Italia è diventato un tema europeo ma che poi non ha visto rispettare gli impegni presi. Questi sono i temi che Renzi, ma anche noi, poniamo all'Europa e da cui, da questa Europa, vogliamo risposte. Ma non ci sentiamo estranei all'Europa, noi poniamo dei temi e vogliamo, con dignità, con rispetto, concorrere alla soluzione di questi problemi. Io penso che le difficoltà maggiori dell'Europa oggi vengono dal Consiglio, cioè sono gli Stati che stanno facendo una politica nazionalista, miope, guardano l'interesse nazionale e non l'interesse europeo. L'interesse europeo ad alcuni Stati va bene quando si tratta di ricevere i fondi europei, non quando si tratta di condividere le difficoltà. Ma sulla tenuta dell'Europa di fronte alla crisi dei profughi si gioca anche il futuro dell'Europa. Oggi dobbiamo difendere Schengen, perché se noi cominciamo a mettere a rischio Schengen e a, come dire, a distruggere quel tipo di accordo, man mano distruggeremo altre pietre miliari della costruzione europea. Quindi siamo in un momento molto difficile. L'Italia è un grande paese europeista, ma europeista serio, cioè di un'Europa che funziona, non di un'Europa che rimane ferma, e può essere un grande alleato di chi crede all'Europa. Quindi il tono brusco, deciso, chiaro, forte con cui Renzi ha posto questi temi è il modo per far sentire alla Commissione, al Consiglio, che l'Italia va rispettata e pronta a fare la sua parte, ma vuole che ci siano, diciamo, anche attenzioni ai nostri interessi nazionali dentro l'interesse europeo. Io sono convinta che, passata questa fase più acuta e rude nei rapporti tra l'Europa e l'Italia, si capirà che l'Italia è un grande alleato di chi vuole migliorare l'Europa. Quindi può diventare anche un grande alleato, come è stato, anche di Juncker, se Juncker vuole andare avanti su una strada di cambiamento. Quindi guardo con fiducia, diciamo, al superamento di questa fase critica, ma nel senso non di lasciare tutto com'è, nel senso di ottenere quello che noi chiediamo e diciamo.